Ballando con le stelle, accordo sfumato per Millie Carlucci, chi le ha detto no Roberto Poletti ha rifiutato un ruolo nel talent di Rai 1, lo spoiler di Alberto Dandolo Si avvicina alla quarta puntata, ballando con le stelle Il programma del sabato sera di Rai 1 è iniziato all'insegna delle sorprese, con un cast mai così ricco di protagonisti importanti e defezioni che hanno spiazzato Favorite assolute per la vittoria finale sembrano essere al momento Simona Ventura e Vanda Nara, anche se Teo Mammucari ha dimostrato di sapersi difendere bene in pista A tenere banco anche le polemiche sollevate dalla giuria, composta anche quest'anno da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, completati dal commento fuori campo di Alberto Matano e di Rossella Erra, la voce del popolo A quanto pare però il cast si sarebbe dovuto arricchire di un altro elemento e a svelarlo è stato Alberto Dandolo sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Oggi Il giornalista ha infatti riportato che Roberto Poletti avrebbe rinunciato in estremis al ruolo di giurato del popolo a Ballando con le stelle L'indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, il giornalista ha considerato poco consono sedere al fianco di Rossella Erra In base quanto riportato dal noto giornalista, Roberto Poletti sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti dell'attuale edizione di Ballando con le stelle, segnata già dall'addio di Lino Banfi che ha svelato di recente il vero motivo dell'abbandono Ha considerato poco consono sedere al fianco di Rossella Erra, la casalinga campana che nello show del sabato sera ha il ruolo di rappresentare il pubblico da casa, si legge sulla rivista A quanto pare il noto giornalista e biografo di Matteo Salvini, avrebbe un altro progetto da realizzare. Dandolo infatti ha riportato Il giornalista Lombardo sta tessendo la tela per garantirsi la conduzione di un programma estivo sulla prima rete del servizio pubblico La trasmissione in questione sarebbe vita in diretta estate Roberto Poletti, ecco quale ruolo voleva ricoprire a Ballando con le stelle 2023 Ma non è tutto. Lo spoiler di Alberto Dandolo sul noto giornalista e conduttore non si è limitato a sottolineare che avrebbe rifiutato il ruolo di giudice popolare accanto a Rossella Erra Nella rubrica forse non tutti sanno che ha infatti svelato Poletti avrebbe gradito essere al fianco di Alberto Matano come commentatore a bordo campo e, ancor più, di essere inserito nel cast come concorrente Nell'edizione in corso Milli Carlucci ha optato per Antonio Caprarica come concorrente, chissà se il prossimo anno il giornalista sulla pista non possa essere proprio Roberto Poletti Nell'edizione in corso